ciao e ci sono l'ox bentornati sui fatti le opinioni di lox il canale per i veri malati di sport secondo incontro di questa 36esima giornata dopo aver assistito a monza lecce abbiamo assistito a una partita invece interessante sia per la zona bassa della classifica che per la lotta per i playoff ovvero la sfida che ho scelto e regina ascoli una partita tra due squadre in forma smagliante delle ultime cinque giornate l'ascoli la migliore squadra del campionato delle ultime dieci giornate hanno un rendimento da playoff le due formazioni mi aspettavo una bella partita è finita due pari il punteggio lascerebbe pensare una partita scoppitante spettacolare diciamo che divertente mi sono divertito però sicuramente l'incontro è stato anche pieno di tanti errori tanti errori tecnici anche da parte di entrambe le formazioni molti faldi una partita molto tesa anche arbitrate piuttosto male d'abisso il punteggio finale penso sia assolutamente corretto le due squadre si sono equivalze la partita non ha mai avuto un padrone l'incontro si è sviluppato su un ritmo alterno momenti molto scoppiettanti momenti invece più tranquilli di gioco la regina è nata in vantaggio nel primo tempo con una rete di test di cione che ha il suo primo gol in campionato su una bellissima azione calcio d'angolo l'immagine di copertina è questo particolare piazzamento degli uomini della regina sul calcio d'angolo che si dispongono in trenini 4 da una parte 3 dall'altra in questo caso il calcio d'angolo non è stato battuto direttamente ma è stato giocato corto sul cross dalla destra di dichiare stato bravissimo cione che a trovare il gol del vantaggio lascoli ha reagito reagito bene ha costruito delle occasioni nicolas eccezionale il portiere della regina oggi ha compiuto dei buoni interventi fino a che lascoli ha avuto un calcio di rigore al 26esimo minuto per un fallo di mano in aria sempre di cione che il rigore l'ha tirato sabini nicolas ha fatto una parata straordinaria col pugno ha ammalato la palla alta sopra la traversa e quindi il punteggio è rimasto 1 a 0 per la regina non grandi occasioni da rete un gioco appunto che si sviluppava in maniera abbastanza confusa da ambole parti ma due squadre vive combattive in cerca di risultati un risultato importante per i propri obiettivi lascoli trova il quarantesimo gol del pareggio e giovane dalle mura oggi autore purtroppo di qualche incertezza molto giovane molto bravo un giocatore sicuramente futuribile però dietro un paio di svarioni gli ha fatti perde una palla centrocampo sul contropiede lascoli costruisce una buona occasione bai c'è velocissimo a concludere in rete a trovare il gol del pareggio in apertura di secondo tempo lascoli trova anche il gol del 2 1 a prodezza di sabini che recupera una palla metà campo anche in questo caso la regina perde la palla metà campo la palla arriva sabini sabini prima un tunile poi una bomba da fuori area con la quale batte nicolas e trova il gol del vantaggio e la regina in questo caso è bravissima a reagire entra anche dennis come sempre un giocatore straordinario che trova un'opportunità sulla fascia laterale cross al centro dove è bravissimo a realizzare il gol del pareggio montalto davanti alla porta e trova il gol del 2 a pari sul 2 pari diciamo la regina obiettivamente non ha più tantissime occasioni di realizzare ancora è più pericolosi davanti lascoli lascoli a questo tridente eccezionale sia che giochi bai c'è sia quando poi è subentrato bidawi ma dionisi ha giocato una partita incredibile combattività come sempre ha recuperato un sacco di palloni ha lottato contro i difensori è stato ammonito come spesso gli capita comunque lascoli ha dovuto ancora delle buone occasioni una con dionisi e rispinta molto bene da nicolas e un'altra nel finale l'ottantaquattresimo di sabini sulla quale nicolas è stato ancora molto bravo la partita è nata quindi a concludersi su questo 2 a 2 un risultato come detto assolutamente corretto le due squadre trovo che si siano equivalze abbiano giocato una partita intensa e interessante sono due squadre molto vive ripeto da un punto di vista tecnico probabilmente mi sarei aspettato qualcosa di meglio da due squadre così in forma però sicuramente la partita è stata veramente godibile veramente viva le due squadre ora in questo momento la regina è al decimo posto con 49 punti e a un solo punto di distanza dal brescia che ha raggiunto la spalla e ha guantato in questo momento con il successo di oggi a vicenza la posizione per i playoff per la grida dei playoff quindi regina totalmente in corsa per l'ascolo invece questo pareggio la porta 41 punti raggiunge il pordenone e il vantaggio sul cosenza sconfitto nettamente a empoli è ora di sei punti quindi l'ascoli sta cominciando a pensare seriamente non solo di portarsi fuori dalle zone della pericolose ma anche magari di poter evitare i play out ascoli che una squadra come dicevamo assolutamente in forma la migliore delle ultime cinque giornate il rendimento delle due formazioni nelle ultime nelle ultime dieci partite è stato straordinario sono due squadre veramente veramente in grande spolvero migliori in campo per la regina direi sicuramente il portiere nicolas che ha giocato una partita eccezionale è piaciuto molto dietro di chiara per la spinta offensiva e anche per qualche buona chiusura difensiva e molto buono in avanti montalto e dennis che quando entrato è stato sicuramente decisivo nell'ascoli mi sono piaciuti tutti i giocatori offensivi sabiri al di là del rigore sbagliato ha realizzato questo gol splendido ha costruito tanto è stato pericoloso al tiro un eccellente giocatore dionisi come detto un combattente totale baic che ha segnato ed è stato anche lui pericoloso e bidawi che quando è entrato è stato indemoniato e ha fatto tantissime belle giocate qualche dato sulla partita possesso di palla 52 48 i tiri 10 a 14 totali ma nello specchio 3 a 9 ovvero nicolas ha fatto quindi la bellezza di sette parate e quindi ha giocato veramente una grande partita e ha contribuito a salvare il punto per la regina partita arbitrata da abisso arbitro di serie a che però oggi non mi è piaciuto più di tanto l'incontro si è concluso con 43 falli i cartellini gialli sono stati sette è stato espulso anche sottile per proteste io credo che probabilmente piuttosto che pensare alle proteste dell'allenatore abisso avrebbe dovuto cercare di tenere un po più sotto controllo la situazione in mezzo al campo ci sono stati tanti falli tante piccole reazioni tanti contatti sui due elieri si è perso un sacco di tempo è andato solo tre minuti di recupero mi ha dato proprio l'impressione che mancasse un padrone in campo un arbitro che veramente potesse controllare il gioco non ha fatto errori grandissimi ma sicuramente da un punto di vista della gestione non mi ha impressionato telecronaca dell'incontro eduardo testoni voto 7 tolto qualche momento un pochino alla sky per il resto una buonissima telecronaca di un validissimo commentatore partita quindi piacevole continua la corsa per i propri obiettivi per entrambe le formazioni vi ringrazio per questo video like se vi piace il video iscrivetevi al canale campagnina per essere avvisati dei prossimi contenuti il prossimo video ci vediamo più tardi per l'eurolega la partita decisiva dell'armani contro il bayern per qualificarsi alle final four dove già l'anadolu si è riuscito a qualificare battendo real madrid e se riesco anche la visione la visione di porderone contro salernitana vi ringrazio ragazzi a più tardi grazie ciao un bacio